La Virtus Francavilla prova a piazzare un doppio colpo e addirittura d'arrivo, infatti, la trattativa che porterà in biancazzurro il difensore centrale Niccolò Cherubin, il 34enne Vicentino, infatti, dovrebbe legarsi al club del presidente Magri con un contratto biennale raggiunto un accordo di massima tra le parti, un lusso per la categoria, Cherubin è reduce dall'esperienza all'Arezzo poco fortunata sul campo, la retrocessione in Serie D e quindi la possibilità di essere contrattualizzato a costo zero a partire dal 1 luglio. In carriera vanta 116 presenze in Serie B e 110 in A, classe 86, ha indossato le prestigiose maglie di Bologna, Cittadella, Atalanta, Padova, Ascoli e Regina. Nell'ultima stagione 22 presenze e un assist. Verso la fumata bianca anche la trattativa per Riccardo Burgio, giovane della primavera dell'Atalanta, dopo l'esperienza a Renate, nuovo prestito in Serie C e quindi alla Virtus Francavilla, una trattativa curata dal direttore generale Antonazzo insieme al responsabile del settore giovanile nero-azzurro Giulio Migliaccio, un doppio colpo per una Virtus che inizia a prendere forma in vista del raduno fissato per il 9 luglio.